benvenuti a tutti oggi vi farò vedere come usare la funzione mirroring su un'autoradio android per prima cosa mi ha dato problemi a gamma quindi ho dovuto ripristinare la home principale la uncia principale allora per prima cosa andiamo a scaricare l'applicazione easy connection anche sul nostro telefonino io l'ho già scaricata e l'apriamo anche sulla nostra autoradio ok adesso ci dice i modi in cui vogliamo collegarla io per comodità e per la scaricata batteria la collego con il cavetto usb andiamo a collegare il nostro cavetto usb tuttavia ovviamente fatto su una tipo vedete che l'ha letto in automatico qui andiamo a dargli ok accoppiamo si ed ecco qua che sta collegando il nostro telefono avvia subito ed ecco qua che adesso vedremo il nostro schermino andiamo a configurarglielo con youtube vedete qui abbiamo il nostro telefono quindi possiamo andare a vedere non so anche la fotocamera volendo oppure non so possiamo vedere un video da youtube mettiamo un a caso allora lì ovviamente adesso è impostato tutto in verticale per togliere la verticalità bisogna io la blocco sempre questa qua in questo modo possiamo vedere anche i video in orizzontale questo è quando il telefono è bloccato vedete proprio abbiamo lo schermo intero del del nostro telefono possiamo addirittura giocarci adesso vi faccio vedere c'è un gioco di carte vedete qui il nostro telefono e qui c'è il nostro giochino l'unico difetto che probabilmente non funzionerà il touch in alcune applicazioni vedete in questo caso nel gioco funziona va un po vedendo perché un gioco che ha bisogno di internet e non prende benissimo il telefono questo è tutto se vi è piaciuto questo video lasciate un like e scrivete nei commenti se avete dubbi o altro